Musica 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 Qui a tutti ragazzi sono Valentina Benvenuti in questo nuovo video Oggi torniamo a parlare di manga In questo periodo vi sto parlando di abbastanza fumetti Ma perché ne sto leggendo davvero tantissimi No davvero tanti di cui parlarvi E in particolare oggi sono qua per farvi Il focus on di un primo volume di una nuova serie Che ho iniziato a leggere proprio negli ultimi giorni E di cui questo primo volume però è uscito a ottobre Anzi è già da qualche giorno uscito addirittura il secondo E non mi dovrei andare a fumetteria a recuperarlo E sto parlando dello squalificato di Junjito Ningen Shikaku Questo è il suo titolo originale Pubblicato da Shogakukan Originalmente in Giappone In un totale di tre volumi Infatti sarà una breve serie Composta solo da tre volumi E in Italia è pubblicato da Star Comics Che io ringrazio tantissimo per la coppia omaggio di questo primo volume Al prezzo di 6,90€ È un seinen che prende in analisi quelle che sono tematiche a carattere drammatiche E psicologiche Molto io interiore per quanto riguarda la storia del protagonista che andiamo a leggere Infatti quello che leggeremo all'interno innanzitutto di questo primo volume Ma in generale all'interno di tutta la serie Sono le vicende, la vita tormentata che ha vissuto Yozo Oba Il protagonista appunto della nostra storia A partire da quella che fu la sua infanzia E via via andando avanti ovviamente con il passare degli anni e dell'età Quello che ci diamo fra le mani è il rifacimento a carattere manga Di un romanzo molto famoso scritto da Osamu Dazai Legato nel 1948 Che è appunto come titolo Lo Squalificato E che fa parte di quella corrente di letteratura giapponese Che va a svilupparsi all'interno di quello che è il primo dopoguerra Dopo la letteratura della bomba atomica La Genbakubungaku Si ha una fase di letteratura Che va ad entrare all'interno di quello che è il romanzo dell'io In particolare dell'io interiore Sia dell'autore stesso ma anche dei protagonisti che quest'autore andava a descrivere Che molto spesso andavano addirittura quasi a ricalcare un po' Quella che fu effettivamente anche alcuni eventi Che hanno caratterizzato la vita dell'autore stesso All'interno comunque di una letteratura letteralmente decadente Si sviluppa proprio all'interno di quella che è letteralmente la crisi di identità Che i vari personaggi all'interno di questi romanzi vanno a subire O comunque a sopportare Oltre per non parlare di quella che è letteralmente la perdita O comunque la mancanza che questi protagonisti hanno di un vero e proprio scopo Che va anche un po' a descrivere quella che era la situazione del Giappone Proprio di quel periodo post seconda guerra mondiale Tutti i dettagli che già risaltano alla perfezione all'interno di questo solo primo volume Vedendo letteralmente quella che è l'incapacità del nostro protagonista Proprio di rapportarsi con gli altri La sua vera fatica di avere un rapporto umano comunque abbastanza sentito Tanto da farlo quasi diventare un giullare, un pagliaccio agli occhi degli altri Per nascondere quello che è l'io suo vero Quindi l'essere assolutamente chiuso in se stesso E avere effettivamente un senso di mancato rapporto, mancato dialogo con chi lo circonda Il fatto che comunque l'entrare in contatto con determinate persone E vicende che lo vedono protagonista e lo caratterizzano Lo porteranno spesso, molte volte, a cercare addirittura di suicidarsi Quindi anche in questo caso sicuramente il vivere una vita abbastanza tormentata Lo porterà a scelte assolutamente estreme Il tutto anche dovuto al suo essere e sentirsi assolutamente fallito Come uomo, come persona, come proprio io del personaggio E proprio tutto questo lo vediamo già all'interno di questo primo volume Che ci porterà poi sicuramente già a partire dal secondo Ancora di più all'interno di questa parte così oscura dell'essere umano Così oscura dell'io interiore dell'essere umano Che molto spesso comunque arriverà a tormentare Non solo il nostro protagonista ma anche noi Leggendo e vedendo questa storia Soprattutto grazie a quelli che sono i disegni di Giungito Che come già vi disse in Fragments of Horror Avevo adorato per il loro modo di essere Amalgamarsi alla perfezione con quella che è la storia che si va a leggere Qua non è assolutamente da meno Perché per quanto io non abbia mai letto lo squalificato O l'ho studiato per letteratura giapponese Ma è un libro che ancora devo effettivamente affrontare in prima persona Tutto quello che comunque in maniera emotiva traspare durante la lettura Di questo intanto primo volume Unito ai disegni che ho trovato davvero amalgamati alla perfezione Con la storia di per sé Rende il tutto davvero assolutamente destabilizzante Ma quel destabilizzante bello Che piace Che rende il tutto a un mio punto di vista perfetto Vi faccio vedere qualche tavola perché mi sono piaciute davvero tantissime Sono tavole comunque molto reali nel loro essere come disegno E molto forti, molto crudeli, molto dure Anche solo nell'uso dei colori, della scelta dello stile Nella scelta di rappresentare determinati personaggi in qualche modo O determinate scene in un altro Ed è una cosa che tipo io ho adorato tantissimo Perché danno un senso proprio vivo Ancora di più alla storia che vai a leggere Non solo con la parte emotiva che ti raggiunge Ma anche la parte visiva Ed è una cosa che io adoro tantissimo Vedere all'interno di un fumetto È una cosa che io sto adorando tantissimo Nel modo di raccontare, di rappresentare, di giungito Con questo secondo volume sta praticamente confermando Quello che ho avuto con Fragments of Horror Cioè il mio amore nel suo modo di raccontarti il tutto Anche solo tramite i disegni Ed è una cosa che non sempre riescono a fare O comunque riesce a catturarmi al 100% Giungito è già due volte su due che ci riesce E quindi penso sia un qualcosa di assolutamente positivo Questo oltretutto non è l'unica versione a carattere manga Che esiste dello squalificato L'è stata fatta anche qualche anno fa Una versione da Usamaru Furuya Oltretutto io quella non l'ho letta Però mi piacerebbe recuperarla Ma vi rimando al video che fece Afrodite Urania Qualche tempo fa In cui mi si è a confronto Questa versione con quella di Usamaru Furuya È un video davvero molto interessante Lo trovate linkato a fianco a me nelle schede e sotto Che dirvi Io ve lo consiglio assolutamente È una breve serie Comunque sono solo tre volumi Ma è una serie davvero molto intensa Che va davvero a catturare e a colpire Quello che è l'animo umano Non solo di quello che leggi Ma anche tu come lettore E sicuramente io voglio recuperare il libro e leggerlo Perché poi io voglio anche vedere Com'è la sua versione originale E così magari da metterle anche un po' a confronto Ma so già che in un modo o nell'altro Sarà sicuramente anche quella Una lettura molto intensa Anche se non ci sono i disegni di Giungito Perché proprio tutto l'essere l'io E tutto quello che subisce il nostro protagonista Lo senti, lo provi È talmente forte che lo fai tuo Ed è una cosa che mi piace davvero tantissimo Provare quando leggo un libro Perché mi fa entrare ancora di più in empatia Con i personaggi Ma soprattutto con la storia stessa E quindi ci piace tantissimo Io ringrazio ancora Star Comics Mi avevi gentilmente omaggiato questo primo volume Non vedo assolutamente l'ora di andare avanti E di parlarvi degli altri Il mio secondo volume è in fumetteria che mi aspetta Quindi lo andrò a prendere prestissimo E lo leggerò Perché sono proprio curiosa Che ragazzi Il video è terminato Fatevi sapere qua sotto Se voi avete letto O recupererete questa serie di Giungito Se avete mai letto il romanzo di Osamu Dazai O se avete anche mai letto la versione di Osamaru Furuya Perché comunque non l'ho letta E sono molto curiosa di sapere Se voi l'avete letta Come l'avete trovata Come sempre se il video vi è piaciuto Mi invito a lasciare un bel like E iscrivervi al canale Così non perdervi i prossimi video Noi ci vediamo prossimamente sul canale Vi mando un bacione grandissimo Qua sotto tutti i link utili ai miei social E ad Amazon Anche per il volume E alla prossima Ciao Ciao